20 minuti per accordarci un attimo stiamo trovando la soluzione con 20 minuti dovremmo probabilmente se questo è un inedito suo bene, infatti è volto quindi si è calmamente no? si volto, abbiamo capito, e un intro questo c'è in seguendo una livella l'hai mostrato un giorno che avevo rotto col passato tanto già credevo già se sei riuscito sono caduto la piazza è sciocca di volcare doppio senso mi ha allarmato ma come io penso un sentimento era già un po' troppo denso ma sono efflato vedete voi eh chissà chiunque chissà che sarai chissà che sarai di noi lo scopriremo solo vivendo comunque adesso un po' paura ora che questa avventura sta diventando un cantore per cantare 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 lì matti Le tue mosse, yeah! Mi sto accorgendo che sono giusto dentro casa, ho la mia casa ancora ancora in mezzo rosa, non vorrei aver sbagliato la mia spesa, ho la mia sposa, guardare! Gi Qui ciò? Qui ciò? Io ciò? Qui ciò? Come 30 connection per favore! Adicerci! Lamentale qui ciò? Traé un saco di gloria col per venire... Come 30! Grazie a tutti. Allora, facciamo come la scuola, facciamo una cosa piano piano, delicato delicato Chissà, 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 che sarà Pronto, piano piano, delicato Delicato e piano piano Chissà, chissà, chissà Chissà Pensarà di noi Lo scopriremo Adora Chissà 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 Adora Adesso ho paura Ora che questa avventura Questa avventura La storia pera Quanto l'unico sia sincera Chissà Grazie a tutti. Grazie a tutti.